Padre del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Io credo in Dio Padre Onnipotente, creatore del Cielo e della Terra, e in Gesù Cristo suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo. Nacque da Maria Vergine, fatì sotto Ponzio e ovilato. Fu crocifisso, morì e fu seppurto. Discesa agli inferi e il terzo giorno risuscitò dai morti. Salì al cielo, siede alla testa di Dio Padre Onnipotente, di là verrà a giudicare vive i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei Santi, perdono dei peccati, la resurrezione della carne e la vita eterna. Amen. O Maria, ti ringraziamo e ti benediciamo per averci condotti qui a tuoi piedi. Ti offriamo i nostri cuori nella nostra vita. Chiediamo perdono dei nostri peccati. Ti preghiamo per la nostra forte fede, per la nostra conversione. Rendici forti nelle persecuzioni, nei dolori e nelle avversità di questa vita. Vogliamo offritti tutti gli ammalati e sofferenti, sia nel corpo e nello spirito. Tutti gli ammalati che soffrono nei letti dei loro dolori. Aiutali con amore a portare la loro croce. Ti affidiamo per tutte le famiglie, colte dalla perdita di una persona cara. Ti affidiamo i genitori, le mamme, che piangono per la perdita di un figlio. colma il loro vuoto, il loro dolore, rafforza la loro fede. Vogliamo pregarti per le nostre famiglie, per i nostri genitori, i nostri fratelli, le nostre cognate, i nostri cognati e le nostre sorelle. Convertici nel tuo amore. Libera le nostre famiglie da ogni divisione, da ogni gelosia, da ogni calamità di divisione e di egoismo. Benedici e proteggi i nostri nipoti. Benedici tutti coloro a te devoti e che si raccomandano alle nostre preghiere. Vogliamo pregarti per il Papa, per i Vescovi, per i Sacerdoti. Ti affidiamo tutti i padi domenicani che custodiscano questa tua casa del santuario. Rafforzali nel tuo amore, nel loro ministero. E vogliamo pregarti per tutti coloro, per tutti coloro che non hanno ancora conosciuto il tuo amore e l'amore di Dio. Ti preghiamo infine, mamma dell'arco, per i tuoi piani, per il trionfo del tuo cuore immacolato sulla terra e per la pace nel mondo. Tocca i nostri cuori, Maria. Aumenta in noi la fede. Accresci in noi la tua grazia e la tua pace. Donaci un cuore che possa palpitare di te e del tuo amore. O Dio, vieni a salvarci. Signore, vieni presso il nostro aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come erano i principi, o sempre, nei secoli, nei secoli. Amen. Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mamma dell'arco, prega per noi, l'eterno riposo, donano loro, Signore, esplendia di essi la luce perpetua, riposino in pace. Affidiamo anche in questo santo rosario le anime dei nostri cari defunti, le anime devote a Maria Santissima dell'arco e preghiamo per le anime più abbandonate. Nel primo mistero della luce si considera il battesimo di Gesù nel fiume Giordano. Padre nostro che se nei cieli sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come il cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori e non ci indurre in tentazione ma ribellaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, Adesso è nell'ora della nostra morte, amore Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno Gesù Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori Adesso è nell'ora della nostra morte, amore Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno Gesù Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori Adesso è nell'ora della nostra morte, amore Ave Maria, piena di grazia, il Signore è contento, sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è contento, sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è contento, sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è contento, sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è contento, sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora è sempre, nei secoli, nei secoli. Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inforo, porta in cielo tutte le animi, specialmente le più bisognose della tua divina misericordia. Maria, Vergine dell'Arco, prega per noi, l'eterno riposo, dona loro, Signore, splendida essi la luce perpetua, riposino in pace. O Vergine dell'Arco, o Madre nostra cara, ascolta la preghiera che rivolgiamo a te. Nel secondo mistero contempliamo il primo miracolo di Gesù alle nozze di cana. Trasforma la nostra vita nella tua grazia. Fa che non venga mai a mancare in noi la tua grazia, o Madre, e la grazia di tuo figlio Gesù, Padre nostro. Santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come il cielo così in te. Dagi oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male, ame. Amo, ame. Piera di grazia, il Signore è con te, tu sei la benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte, ame. Piera di grazia, il Signore è con te, tu sei la benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte, ame. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei la benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetta il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetta il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetta il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetta è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetta è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetta è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetta è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio e ora e sempre, nel secolo e nel secolo fa. Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anima, specialmente le più bisognose della tua divina musica. Maria Santissima dell'Arco, prega per noi. O Vergine dell'Arco, o Madre nostra cara, ascolta la preghiera che rivolgiamo a te. Nel terzo mistero della luce contempliamo Gesù che annuncia il Regno di Dio. affidiamo in questa decina il centro-sud d'Italia per il terremoto, per i terremotati. Tutti coloro che in questo momento vivono la paura, vivono questi attimi di ansia. Mamma cara, porta queste nostre preghiera a Gesù, calma la terra, converti i cuori, dona pace e serenità e sostegna queste famiglie terremotate. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indura in tentazione, ma liberaci da male. Ave o mamma, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Ave o mamma, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Ave o mamma, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Ave o mamma, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Ave o mamma, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Ave o mamma, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Ave o mamma, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave o Mamma piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave o Mamma piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave o Mamma piena di grazia, il Signore è il frutto del tuo seno, Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua Divina Misericordia. Santa Maria, Maria Santissima dell'Arco, prega per noi, l'eterno riposo, dona loro, Signore, splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. O Vergine dell'Arco, o Madre nostra cara, ascolta la preghiera che rivolgiamo a te. Nel quarto mistero luminoso, contempliamo la trasfigurazione di Gesù su Monte Tabor. Ti affidiamo in questo momento tutti i nostri amici, tutti i tuoi figli devoti che vivono al nord Italia. Ti affidiamo a tutti i nostri amici devoti e battenti, le nostre amiche e i nostri amici. Ti affidiamo i loro cuori, Mamma. Proteggili, aiutali. Ti affidiamo anche Mariarca in questo momento e per Anna, per Liliana, per Vito. Sostienili, nelle loro prove, nelle loro avversità. Vogliamo offrirti, Mamma cara, tutti coloro che si sono allontanati da te, dal tuo amore. Tutte quelle famiglie che offendono e bestemmiano il tuo nome. Tutte quelle famiglie che sono state colte dal dolore, della perdita di un ucaro e si sono allontanati da te. Tu, in questo momento, stai leggendo il nome di queste persone che ti sto presentando. Leggi nel mio cuore, Mamma. Scalda il loro cuore. Rafforzali nella fede. Colme il loro vuoto e il loro dolore. Benedici tutte le mamme che piangono per la perdita di un figlio e di una figlia. Consolali tu tutto vuoi, Mamma. Padre nostro, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in te. Daggi oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne. Benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne. Benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne. Benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne. Benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. tu sei la benedetta fra le donne benedetta è il frutto del tuo seno Gesù Santa Maria madre di Dio prega per noi peccatori adesso è nell'ora della nostra morte Amen Piena di grazia il Signore è con te tu sei la benedetta fra le donne benedetta è il frutto del tuo seno Gesù Santa Maria madre di Dio prega per noi peccatori adesso è nell'ora della nostra morte Amen Piena di grazia il Signore è con te Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del Tuo Seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con Te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del Tuo Seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con Te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte, amén. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora è sempre nei secoli e con i secoli, amén. Gesù mio, perdona le nostre volte, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua divina misericordia. Maria Santissima dell'Arco, prega per noi, l'eterno riposo, dona loro, Signore, che sprende ad essi la luce perpetua, riposano in pace, amén. O Vergine dell'Arco, o Madre nostra cara, ascolta la preghiera, che rivolgiamo a te. Nel quinto ed ultimo mistero, consideriamo Gesù che istituisce la guarestia. Aiutaci, o Gesù, a non dubitare mai del tuo amore e dell'amore materno di tua Madre Maria, Madre tua e Madre nostra. Maria, rendici umili, rendici veri figli tuoi. Benedici tutte le associazioni, benedici tutti i battendi e figli tuoi che promulgano il nome tuo Santissimo. Togli ogni divisione, ogni gelosia, ogni litigio e ogni male che rega in ogni associazione. Vogliamo pregarti per le nostre famiglie, per le famiglie del mondo, le famiglie divise. Benedici quei figli che soffrono queste sofferenze dei loro genitori. Voglio presentarti tutti coloro che si sono raccomandati alle mie preghiere e alle nostre preghiere qui a due dievi, che affido Vincenza. Enza anche che si è raccomandata, aiutala nei suoi bisogni, in questa sua situazione. Benedici e proteggi i carcerati, dagli luce e illumina le loro menti. Benedici tutti coloro che sono lontani da te, che offendono e bestemmiano il tuo nome. Benedici tutti i sacerdoti, non si parloci. Benedici i padri domenicani di questo santuario. Ti preghiamo per il padre Rettore, per i padri assistenti delle associazioni, per i sacerdoti, padre Vincenzo. Sostienili, dai luce nel loro ministero. Metti pace dove c'è disordine e discordia attraverso di loro. Usali nel tuo santo spirito. E vogliamo pregarti per le nazioni che vivono le guerre, le catastrofe, le alluvioni. Vogliamo pregarti per tutti coloro che non hanno pace nel cuore e nella vita e che portano disordine nella vita dell'altro. Mamma, metti pace e serenità. Prega tua Gesù per noi, per questa nostra situazione nel mondo. Benedici e proteggi la tua Napoli, la nostra città. E infine vogliamo pregarti per le anime dei nostri cari defunti. Consola le loro pene. Liberali dalle pene del purgatorio, insieme alle anime del purgatorio e le anime più abbandonate. E ammettili a godere la luce del tuo volto. Ti offriamo questa decina, mamma, e ti ringraziamo per questi momenti sereni, per questa carezza che tu hai donato ora a noi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e mettiamo i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debituri. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Questa decina la vogliamo offrire a tutti coloro che ci stanno seguendo in diretta. Vi offriamo i vostri cuori ai piedi della Madonna. Ave o mamma, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Pregate insieme a noi. Ave o mamma, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o mamma, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o mamma, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o mamma, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o mamma, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o mamma, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o mamma, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o mamma, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o mamma, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora è sempre, nei secoli, nei secoli. Amen. Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le persone della tua divina. Maria Santissima dell'arco, prega per noi peccatori, l'eterno riposo, dona loro, Signore. Splendia a essi la luce perpetua, riposano in pace. Amen. O Vergine dell'arco, o Madre nostra cara, ascolta la preghiera che rivolgiamo a te. Salve o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza, speranza, nostra salva. A te ricorriamo, noi esseri figli di Eva. A te sospiriamo, gemente e piangendo in questa valle di lacrima. Orso dunque, Avvocata nostra, rivolge a noi quegli occhi tuoi misericordi. E mostra il giro per il tuo Signore, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Signore, pietà, Signore, pietà, Signore, pietà, Signore, pietà, Signore, pietà, Signore, pietà, Cristo ascoltaci, Cristo esaudiscici. Dio, Padre celeste, Dio, Figlio, Redentore del mondo, Dio, Spirito Santo, Santa Trinità, unico Dio, Santa Maria, Santa Madre di Dio, Santa Vergine delle Vergine, Madre di Cristo. Madre della Chiesa, Madre della Grazia Divina, Madre Purissima, Madre Castissima, Madre Sempre Vergine, Madre Senza Macchia, Madre Degna di Onore, Madre Degna di Lode, Vergine Prudente, Vergine Clemente, Vergine Fedele, Specchio di Giustizia, Fonte della Nossa Gioia, Tempio dello Spirito Santo, Tabernacolo d'Eterna Gloria, Dimora tutta consacrata a Dio, Rosa Mistica, Torre di Davide, Torre di Avorio, Casa d'Oro, Arca dell'Alleanza, Porta del Cielo, Stella del Mattino, Salute dei Malati, Rifugio dei Peccatori, Consolatrice degli Afflitti, Aiuto dei Cristiani, Regina degli Angeli, Regina dei Patriarchi, Regina dei Profeti, Regina dei Martiri, Regina dei Confessori della Fede, Regina delle Vergini, Regina di tutti i Santi, Regina concepita senza macchia originale, Regina in cielo assunta, Regina dei Rosario, Regina dei Giovani, Regina delle Famiglie, Regina dei Consagrati al Cuore Immacolato di Maria, Prega per noi, nostra Signora di Lourdes, Santa Bernadette, Prega per noi, San Pio da Petraccina, Prega per noi, Santa Maria dell'Arco, Prega per noi, Regina della Pace, Prega per noi, Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, perdonaci Signore, Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, esaudiscici, oh Signore, Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, ha vipietà di noi, Signore. prega per noi Santa Madre di Dio preghiera a Maria Santissima dell'arco oh Maria accoglimi sotto il tuo arco potente e proteggici invocata con questo titolo da oltre cinque secoli tu che spieghi aperte e solenne l'affetto di madre la potenza e la misericordia di Regina verso gli afflitti io pieno di fede così ti invoco amami come madre proteggimi come Regina sollevami i dolori o misericordia Santa Maria dell'arco prega per noi sotto la tua protezione noi ci rifugiamo Santa Madre di Dio non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova ma salvaci e liberaci da ogni pericolo e da ogni male oh Vergine gloriosa e benedetta dacci la tua santa e materna benedizione nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo Amen salutiamo Vergine colomba tutta pura nessuna creatura è bella come te prega per noi Maria prega i figli tuoi madre che tutto puoi abbi di noi pietà abbi di noi pietà di stelle risplendente in ciel se incoronata tu sei l'immacolata se madre di Gesù prega per noi Maria prega per noi Maria prega per i figli tuoi madre che tutto puoi abbi di noi pietà abbi di noi pietà voli per noi pietà vorrei salire in cielo vorrei salire in cielo vedere il tuo bel viso vorrei salire in cielo vorrei salire in cielo vedere il tuo bel viso Abbi di noi pietà, abbi di noi pietà. Viva Gesù e viva Maria, viva la Santissima Trinità di Dio. Un saluto a tutti e grazie per questo momento che siete stati con noi in compagnia. Un saluto da noi. Ciao a tutti. Ciao.